Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Subito in primo piano c'è la Cronaca, una organizzazione malavitosa romeno-albanese specializzata in furti e spaccio di droga. È stata sgominata dai carabinieri del nucleo investigativo di Pescara. Nove le ordinanze eseguite, una decima persona è invece ricercata. Vediamo. Furti, ricettazione, spaccio di sostanze stupefacenti, questi reati di cui devono rispondere nove giovani albanesi e romeni arrestati all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pescara. Le ordinanze di custodia cautelare eseguite nelle ultime ore sono state messe dal GIP del Tribunale Adriatico, Maria Carla Sacco, su richiesta del pubblico ministero Barbara Del Bono. Secondo le risultanze investigative, i nuovi arrestati facevano parte di un sodalizio malavitoso che si era specializzato nella commissione di furti di casse forchi e danni di centri commerciali, gioiellerie e case private, furti di auto utilizzate per i raid e traffico di droga acquistata in Puglia e spacciata anche in Abruzzo. Una decima persona è attivamente ricercata. Questa è un'operazione che è nata innanzitutto da un'intuizione dei carabinieri della compagnia di Popoli che poi è stata sviluppata da quelli del nucleo investigativo di Pescara anche perché l'attività si è stesa molto in ambito provinciale, regionale e addirittura nazionale perché noi abbiamo individuato questa banda di cittadini romeni e albanesi che razziava un po' la provincia di Pescara ma anche tutta la dorsala triatica arrivando fino al nord-est, abbiamo registrato anche furti nella zona di Rovigo, di Padova. Non è stato semplice, non è un'operazione tradizionale perché gente che lavora sempre di giorno e di notte, lavora in teso rubano e quindi per andarli a prendere, andarli a pizzicare non è stato semplice, l'abbiamo dovuti cercare uno alla volta e di volta in volta bloccarli. Quando si sono sentiti braccati per quanto riguarda l'attività di contrasto ai furti hanno cercato di diversificare le loro attività dedicandosi anche al traffico, allo spaccio di stupefacenti, attività che è stata comunque monitorata e alcuni di questi sono stati restati anche in flagranza di reato. Un blitz antiterrorismo è stato eseguito nella scorsa notte in un hotel di Montorio lungo la strada statale 80 alle porte della cittadina. Oltre 60 carabinieri dei ROS del reparto operativo del comando provinciale diretti dal comandante, dal maggiore Massimiliano De Luca Speranza, hanno effettuato una trentina di perquisizioni nell'albergo che ospita un consistente gruppo di richiedenti asilo politico di nazionalità pakistana e afghana. L'iniziativa è stata diretta dalla direzione distrettuale antimafia dell'Aquila che ha autorizzato le perquisizioni delle stanze d'albergo e quelle personali sugli extracomunitari a seguito di una informativa del gruppo speciale dei carabinieri di Roma e del nucleo informativo Terramano. Il blitz è stato eseguito nella notte dopo la segnalazione della presenza nel gruppo di persone sospettate di fiancheggiare l'estremismo islamico o comunque vicini agli ambienti musulmani deviati. Nel corso dei controlli sono stati rinvenuti passaporti falsi e contraffatti, quaderni di appunti in lingua araba e telefoni cellulari. Su questi ultimi sono in corso le verifiche degli specialisti dei ROS alla ricerca di eventuali informazioni che siano utili alle indagini. Delle 29 persone controllate, 18 sono state denunciate a piede libero per possesso di documenti falsi. Con la dismissione del punto nascita a rischio declassamento o chiusura anche il pronto soccorso dell'ospedale San Massimo di Penne come confermato in commissione e vigilanza dell'assessore regionale Paolucci. Il decreto Lorenzino sono linee guida, danno praticamente alle regioni la possibilità di chiudere, di aprire, di fare tutto. È una linea guida, dà delle indicazioni di come uscire in particolare dalla situazione sanitaria che c'era, che l'Abruzzo era una delle regioni canaglie, se non si ricorda, che inizia lo smandellamento proprio per questo era il commissario ad acta che dopo è passato ad Alfonso, il quale è il commissario che decide la chiusura o l'apertura di reparti, questa è una cosa acclarata, quindi è una scelta ben precisa politica fatta da questa amministrazione regionale, dal consiglio regionale e soprattutto dal commissario e è stato supportato anche da Paolucci. Per quanto riguarda il pronto soccorso? Il pronto soccorso fa parte proprio del piano sanitario, quindi non si parla di chiusura del punto nascito come punto eclado, ma qua si parla di chiusura dell'ospedale, che comunque il punto nascito è una cosa relativa, il problema è che qua si chiude l'ospedale, noi come l'ospedale come l'abbiamo conosciuto fino ad anni fa che era il fiore all'occhiello della sanità abruzzese insieme a Atri, questi due ospedali alla zona interna erano dei fiori all'occhiello, davano prestazioni e servizi eccellenti, sono stati proprio chiusi, vengono smantellati, quindi è una scelta di tipo politica, non avremo più un ospedale ma ci sarà un presidio sanitario e secondo il piano sanitario regionale questo presidio sanitario avrà un pronto soccorso o un'emergenza, un servizio di emergenza e avrà 40 posti letto, i quali sono soggetti a verifica dopo un anno e quindi se non raggiungono gli standard vengono chiusi, questo non ci piove, questo è il più grave attacco fatto alle zone interne da che ricordi io che è parecchio tempo che seguo un po' le cose sociali e politiche della zona, è una cosa vergognosa, ci hanno levato un diritto alla salute della gente, teniamo conto che già per arrivare a Penne, da certe zone disagiate, parlo solo del comune di Penne, anche dei comuni limitrofi, ci vogliono ore per arrivare, quando uno è arrivato a Penne già probabilmente è morto, se non è morto qui a Penne dopo deve andare a pescare, parlo per esempio degli invartuati, parlo di che ha bisogno di rianimazione, deve essere spostato e quindi questa cosa non fa altro che peggiorare sicuramente la situazione dell'ammalato e della situazione sanitaria. Andiamo a occuparci ora della vicenda dei tagli ai patronati e ai CAF, stamani manifestazione all'Aquila davanti al Palazzo della Prefettura. Si sta smantellando uno stato sociale perché noi non abbiamo una clientela di altissimo livello, abbiamo persone che hanno bisogno di risolvere dei problemi. Chiediamo di eliminare questi tagli perché non è più accettabile far fronte a tutte le richieste. Basta tagli dal governo, l'assistenza fiscale previdenziale garantita gratuitamente da CAF e patronati gestiti dai sindacati sono un servizio essenziale per milioni di lavoratori, pensionati e disoccupati che un commercialista non possono permetterselo. Questo chiedono CGL, Cisle e UIL che hanno oggi presidiato il Palazzo della Prefettura all'Aquila. Anche per il 2016 nel patto di stabilità sono previsti infatti interventi di riduzione sul fondo dei patronati per 28 milioni di euro e sul fondo per i compensi e CAF per 40 milioni per il 2016 e ulteriori tagli da 70 milioni per il 2017 e 2018 per arrivare al salasso finale nel 2019 con un taglio di 100 milioni di euro. Un incomprensibile attacco che avrà effetti devastanti anche in Abruzzo denunciano fuori il Palazzo del governo i sindacati che sarà pagato dai cittadini e anche da centinaia di dipendenti che operano negli uffici dedicati. Noi già adesso abbiamo dovuto ridurre, e io parlo come CGL, di un paio di persone su quattro, però il problema è che noi lavoriamo molto anche con il volontariato per cui riusciamo non dico a sopperire del tutto a queste problematiche, siamo in enorme difficoltà per affornire il servizio ai cittadini. Non è ammissibile che vengano fatti questi tagli perché il nostro patronato è gratuito e oltretutto in questo modo si andrebbero a eliminare tanti posti di lavoro. E nel giorno di Santa Barbara, protettrice dei Vigili del Fuoco, siamo stati al comando di Teramo per la relativa celebrazione. Comandante, si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con i festeggiamenti in occasione di Santa Barbara, caserma aperta anche quest'anno e anche ai più piccoli? Certamente, per noi più che tradizione è un appuntamento d'obbligo quello di Santa Barbara perché è effettivamente una data di consuntivo e anche di propositi futuri. Poi ogni anno cerchiamo di dare colore a questa festa invitando quelle giovani promesse in cui l'immaginario del Vigile del Fuoco rappresenta la forza, l'eroe buono che soccorre le persone e quindi ben volentieri anche quest'anno questi bambini, oltre ai canti e così a rallegrarci con le loro voci sono state veramente simbolo di una, come dire, di grande vitalità. Ad oggi qual è il consuntivo dell'attività? Allora, il consuntivo di quest'anno, diciamo purtroppo siamo andati un pochino sopra con gli interventi rispetto all'anno passato, arriveremo a 4.500 su scala provinciale, per fortuna con la stessa percentuale non sono cresciuti gli incendi, siamo appena superiori del 10% con questa tipologia di intervento e comunque i terramani possono stare tranquilli perché ogni volta rispondiamo con estrema professionalità, dedizione al servizio ma soprattutto, diciamo, interpretando veramente i bisogni della gente con estrema attenzione. Noi con Salvini si organizza in Abruzzo in vista delle prossime consultazioni amministrative. Questa mattina a Pescara il senatore Paolo Arrigoni ha incontrato i dirigenti abruzzesi del Movimento. Senatore Paolo Arrigoni oggi a Pescara, si parla del Movimento Noi con Salvini e marcia di avvicinamento alle prossime amministrative anche se l'obiettivo vero sono le elezioni politiche. L'obiettivo principale sono le elezioni politiche, Matteo Salvini vuole un contributo decisivo da parte di questo Movimento per le prossime elezioni politiche dove vogliamo assolutamente vincere per governare, per scalzare Renzi. Sappiamo che nella prossima primavera ci sono delle elezioni comunali, 69 comuni in regione Abruzzo che vanno al voto, 4 comuni importanti, proseguiranno i contatti con le altre forze politiche del centro-destra che è il naturale approdo. Non necessariamente faremo delle alleanze. Fare breccia in una regione del mezzogiorno qual è l'Abruzzo comunque di confine non sarà facile. Avete pensato anche a tematiche più propriamente locali per attecchire nella nostra regione? In questi mesi Matteo Salvini è venuto più volte in terra di Abruzzo e con i suoi interventi ha sempre raccolto centinaia se non migliaia di persone. Ora questo entusiasmo deve essere canalizzato in questo Movimento che vede ben operare da diversi mesi. Ci sono diverse persone che ci hanno messo la faccia, sono i pionieri, hanno assunto il ruolo di coordinatori in diverse città, in tutte le quattro province di Abruzzo. Doviamo ovviamente crescere di più dal basso. Manifestazione sotto la regione a Pescara per protestare contro lo stato fatiscente di alcuni quartieri di Pescara. Al fianco dei residenti il Movimento 5 Stelle. Manifestazione sotto la sede della regione questa mattina a Pescara dei residenti delle abitazioni di edilizia popolare dei quartieri di Fontanelle, Rancitelli e Sandonato per protestare contro lo stato fatiscente di alcune abitazioni. I cittadini supportati dai consiglieri regionali e comunali del Movimento 5 Stelle hanno chiesto risposte urgenti alla politica, anche sulle problematiche di microcriminalità e di occupazioni abusive. Tante case stanno letteralmente cadendo, ci sono infiltrazioni d'acqua, muffa diffusa, umidità, ci sono bambini affetti da patologie respiratorie a vivere all'interno di vere e proprie tuguri e in bilancio non c'è nulla, non ci sono risorse regionali per ristrutturare le case popolari. Allora noi chiediamo con forza che nella predisposizione del nuovo bilancio 2016, che faremo tra qualche giorno, il Presidente e la Giunta si facciano carico di inserire risorse finanziarie in bilancio. Unitamente a questa richiesta chiediamo anche di stanziare fondi. Sono stati stanziati fondi per lo sfratto delle occupazioni abusive, ma questi fondi non vengono ancora impiegati, gli sfratti degli occupanti abusivi ancora partono, non si capisce dove si è bloccato questo meccanismo burocratico. Quindi far ripartire gli sfratti, ristrutturale però principalmente le case popolari, perché i cittadini non riescono più a vivere, ci sono pericoli imminenti per la pubblica incolumità. Questo è un dato di fatto. La regione che è proprietaria delle case si deve far carico, quindi la maggioranza di governo, il Presidente della regione deve dare una risposta a questi cittadini. Ed ora una notizia di cronaca che è appena giunta in redazione. Rapina a mano armata stamani intorno al 9.30 all'oreficeria Oropiù di Via Carducci a Tortoreto Lido. Due banditi hanno minacciato con la pistola il titolare in quel momento solo dietro il bancone vendita, obbligandolo ad aprire la cassaforte e a mettere in una busta della spesa i preziosi, la cui quantificazione è ancora in corso. Poi si sono dileguati. Prima di mettere a segno il colpo, uno dei due malviventi, sarebbero entrambi stranieri, è entrato fingendo di voler fare degli acquisti. Poi poco dopo è entrato l'altro armato con il volto coperto. Indagano i carabinieri della stazione di Tortoreto e della compagnia di Alba Adriatica che sperano di trovare valido contributo nelle telecamere interne del negozio e in quelle di altre attività presenti nella centralissima via di Tortoreto. Sam Saghi, ricercatore e scienziato di punta a livello internazionale nel settore delle scienze e tecnologie alimentari, per sei mesi sarà visiting professor della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali dell'Università di Teramo. Vediamo. Sam Saghi, scienziato delle scienze e tecnologie alimentari, sceglie l'Università di Teramo per sviluppare progetti di ricerca. Non poteva essersi un miglior inizio del programma di internazionalizzazione varato dall'Ateneo. Per questo ringraziamo il professor Saghi, veramente lo ringraziamo molto perché viene qui a lavorare per sei mesi anche duramente offrendoci la possibilità di ampliare le collaborazioni sulle ricerche e di offrire ai nostri studenti una docenza di livello straordinariamente elevato. Dopo aver collaborato con la Facoltà di Agraria dell'Università di Teramo dal 2011 al 2014 nell'ambito del progetto internazionale Erasmus Isecchi Food 4 ha mantenuto ottimi rapporti di collaborazione che oggi hanno portato il professor Saghi a scegliere l'Università di Teramo per un periodo di più stretta interazione con la Facoltà di Bioscienze, Tecnologie, Agroalimentari e Ambientali. La ragione principale è perché conosce la professoressa Pitti e il professor Marra dell'Università di Salerno che collaborano con lui da anni e quindi è la motivazione per stare qua per contribuire sostanzialmente al territorio, sul territorio soprattutto nell'ambito delle piccole e medie imprese per poter dare l'idea della ricerca che conduce lui in particolare sull'innovazione di prodotto e di processo e per fornire quello che deve fornire in fin di conto la scienza sul territorio e sulle aziende. Il professor Saghi terrà seminari e attività didattica su argomenti relativi all'innovazione di prodotto e di processi delle tecnologie alimentari. Combinare la scienza di base, l'innovazione e i consumatori, quindi mettere insieme le necessità del mercato, la conoscenza e il territorio, tutto ovviamente nell'ottica di migliorare il prodotto e di incidere ovviamente sui consumatori. Il professor Gaspare Carta, primario del reparto di ginecologia dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, è stato l'unico professionista in Europa ad aver partecipato ad una importante convention in Cina. Davanti a un costesso di 500 specialisti cinesi ai più alti livelli, c'era solo l'Aquila a rappresentare l'Europa con lo stendardo della ginecologia dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. A Sceneanga, nella lontana Manciuria, a 600 km da Pechino, al Congresso Nazionale di Euro Ginecologia Cinese, ai rappresentanti del Presidio Aquilano è stato persino riservato il privilegio di aprire l'assemblea plenaria degli specialisti dagli occhi a mandorla della specifica branca. In un paese esterminato dal numero esponenziale di nascite e con reparti che superano la soia di 10.000 parti l'anno, i dominus cinesi dell'Uroginecologia hanno riservato il massimo dell'attenzione all'Alezio Magistralis del professor Gaspare Carta, in cui si parlava di una nuova tecnica sul recupero dell'utero in casi molto gravi di prolasso. Carta, direttore di ostetricia e ginecologia dell'Aquila, invitato a tenere l'Alezio Magistralis ha tenuto l'overture dell'assemblea con un intervento durato 40 minuti, sviluppato rigorosamente in inglese, contraddistindo dalle domande dell'uditorio e dalle relative risposte del primario. L'Alezio Magistralis è stata accompagnata dalla proiezione di una doppia diapositiva, una con didascalia in inglese e l'altra nella lingua locale, mentre un interprete ha tradotto dall'inglese al cinese tutta l'esposizione di carta sull'argomento. Gli organizzatori del congresso, peraltro, si erano procurati con largo anticipo per esaminarle e tradurle al meglio le diapositive sull'intervento del responsabile del reparto aquilano, unico specialista europeo invitato ai lavori nazionali cinesi. Carta, una lunga e apprezzata esperienza professionale, dal prossimo anno assumerà la carica di presidente nazionale dell'AIUG, l'Associazione Italiana Urologia Ginecologica. Il reparto di ostetricia e ginecologia dell'Aquila, tra l'altro, offre in Abruzzo servizi di nicchia come il parto in acqua, che a distanza di oltre un anno fa registrare l'alto gradimento delle partorienti. Il gruppo Amadori, già presente in Abruzzo con lo stabilimento, è pronto a investire ancora con il progetto dei Polli Campese, un progetto che è stato presentato questa mattina. Assessore Pepe, questo progetto con l'Amadori, progetto del Polli Campese, rappresenta un'importante opportunità di investimento per l'Abruzzo. Con le risorse strutturali anche del piano di sviluppo rurale possiamo dare un'opportunità importante sia ai giovani che vogliono insediarsi in agricoltura, sia a tante aziende agricole che possono sviluppare ulteriormente le proprie attività. L'Amadori punta fortemente ancora ad investire nella nostra regione. Torniamo ad investire in Abruzzo dove siamo arrivati negli anni Ottanta, abbiamo realizzato il secondo polio industriale più grande della nostra azienda e oggi vogliamo lanciare il progetto dei Polli Allevate all'Aperto, quindi del nostro Campese, quindi un'opportunità per tutti gli abruzzesi, tutti coloro che sono agricoltori e che vogliono diventare anche allevatori e questa è una grande opportunità di crescita per il territorio abruzzese. Un progetto importante che può beneficiare anche di fondi regionali. Certamente rappresenterà un'opportunità anche per i giovani che vogliono diventare imprenditori in Abruzzo. Un progetto importante che sarebbe da esportare e da imitare con altri simili probabilmente. Sicuramente questo è un progetto di filiera che noi possiamo copiare anche per altri settori e parlo agli altri settori dell'economia agricola regionale. Torna a Teramo anche quest'anno il progetto anti-bullismo e spaccio Il più forte sono io, un progetto voluto dal prefetto di Teramo e l'iniziativa è rivolta agli alunni delle scuole elementari e medie. E' partita ufficialmente dall'Istituto Comprensivo Savini, San Giuseppe e San Giorgio la seconda edizione di Il più forte sono io, progetto promosso dal prefetto di Teramo, Walter Crudo, per prevenire e contrastare i fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti e di bullismo in ambito scolastico. E' un dire no alla violenza di genere. Non ci scordiamo appunto che il bullismo e spaccio di sostanze stupefacenti sono comunque due problematiche connesse a quella che è la violenza, o su se stessi o su terzi. E' un progetto impegnativo per tutti coloro che fanno parte proprio del team, però sicuramente la positività del progetto sia nel rapporto con gli studenti e soprattutto con tutto ciò che è il sociale, perché sono forme comunque sia bullismo che spaccio di sostanze stupefacenti che hanno a che fare con il disagio sociale in generale. Impegnati un team di qualificati operatori della prefettura, dell'ambito territoriale, della ASL, della Polizia di Stato e dei Carabinieri, della Polizia Postale e delle Comunicazioni ed Unità Cinofila della Guardia di Finanza. Tra le principali novità dell'iniziativa, una maggiore offerta formativa per gli insegnanti referenti, incontri mensili in prefettura su vari aspetti e ferentile, fenomenologie trattate. Infine l'inclusione anche di classi delle scuole elementari. 21 quest'anno le scuole partecipanti rispetto alle 18 della scorsa edizione. Noi cerchiamo di spiegare ai ragazzi quali sono le conseguenze di alcuni comportamenti che si possono mettere in atto anche utilizzando la rete. In particolare collegato a questo progetto, proprio riferito al bullismo, quello che poi diventa cyberbullismo, quindi tutti quei comportamenti che si possono poi replicare su internet, quindi il video, la minaccia, tutte quelle frasi che si possono scrivere oppure inviare tramite i vari social network o anche via mail così, rimangono di fatti permanentemente su internet e poi sono difficilmente cancellabili, quindi tornare indietro comincia a essere complicato. Da domani fino all'8 dicembre si svolgerà l'iniziativa Il Cammino dell'Immacolata nella Valle delle Abbazie, una passeggiata attraverso l'arte di splendide chiese del Terramano da Morro d'Oro a Isola del Gran Sasso. Arte, natura, cultura e sacralità. E questo è il mix delle quattro giornate intense, dal 5 all'8 dicembre, dell'iniziativa Il Cammino dell'Immacolata nella Valle delle Abbazie. Si tratta di una lunga passeggiata che prenderà il via sabato 5 dall'abbazia di Santa Maria di Propezano nel comune di Morro d'Oro per concludersi martedì 8 dicembre con l'arrivo al santuario di San Gabriele della Dolorata, Isola del Gran Sasso. Una camminata, una lunga camminata di quattro giorni nelle quali avremo modo di scoprire il territorio della Valle delle Abbazie che corrisponde alle vallate dei fiumi Vomano e Mavone e vedremo le abbazie, ma non solo, anche i borghi, le torri, la riserva naturale di Castelcerreto fino ad arrivare l'8 di pomeriggio al santuario di San Gabriele della Dolorata. Per chi lo vuole fare tutto il contributo è di 98 euro, invece per chi lo volesse fare soltanto giornalmente senza rimanere per la cena e a dormire è soltanto di 19 euro. Può andare su Facebook per seguire tutte le nostre attività, ci sono tutte le informazioni su come aderire, oppure il sito internet www.valledeleabbazie.it oppure mi può semplicemente chiamare al numero di telefono per avere qualsiasi ulteriore informazione al 346 02 30 559. Ed ora possiamo aprire la pagina sportiva, lo facciamo con la schermata relativa ad una giornata che si aprirà questa sera con due anticipi, gli anticipi della sedicesima giornata alle ore 19 a Chiavari, Virtus, Sentella, Brescia e poi alle ore 21 Perugia, Modena. Ci saranno poi due posticipi domenicali alle 12.30 Vicenza, Saernitana e poi alle 17.30 Cagliari, Como. Le partite di domani ore 15 saranno Bari-Ascoli, Crotone-Cesena, senza dubbio la partita di riferimento di questa sedicesima giornata. Poi Latina-Livorno, Novara-Lanciano, Pescara-Spezia, Provercelli-Ternana e Trapani-Avellino. Queste dunque le gare della sedicesima giornata che si aprirà questa sera con la partita di Chiavari. Domani invece il Pescara riceve uno Spezia che è in un momento assolutamente negativo in campionato, ma dopo l'arrivo di Carlo che ha debuttato con la sconfitta casalinga nel compresso non meritata contro il Crotone ha fatto molto bene in settimana in Team Cup. Dunque con questa svolta chissà positiva lo Spezia arriverà a Pescara per rendere difficile la vita alla squadra di Oddo. Oddo che però ritrova tra i pali il portiere Fiorillo e non dovrebbe sconvolgere l'assetto della squadra che ha perso contro il Cesena che dunque medita riscatto. Ascoltiamo le parole pronunciate proprio pochissimi minuti fa nella classica conferenza pre-gara del tecnico Biancazzurro. Io non ho problemi, non mi crea problemi perché comunque sia noi abbiamo fatto questi punti fino ad ora con questi giocatori e tutto sommato quello che ho sempre detto lo confermo che noi abbiamo grandi margini di miglioramento. Stiamo lavorando per questo, tanto sul campo per migliorare, per cercare di sbagliare di meno, ma io credo fortemente in questo gruppo credo fortemente nei giocatori che ho in questo momento. Poi si sa che arrivi a un certo momento in cui a pochi giorni dal mercato non è tanto il giocatore che deve arrivare, che si incomincia a parlare di giocatori che devono arrivare e quant'altro, ma è anche giocatori che magari incominciano a voler andare via o incominciano a pensare di voler andare via e quant'altro. Quindi inevitabilmente vicini al mercato si perde un pochino di vista quello che è l'obiettivo fino a quando poi non si riapre il mercato. Poi con certezza non posso saperlo, ma è inevitabile che tutti i giocatori vorrebbero giocare sempre, ma non è possibile. 11 vanno in campo, 9 in panchina e il resto vanno in tribuna. Quindi inevitabilmente, come in ogni squadra, ci sono giocatori che hanno più spazio, altri che hanno meno spazio. Però per me questi ragazzi che ho qui sono tutti importanti. Penso che bene o male quasi tutti hanno avuto l'opportunità. C'è chi l'ha sfruttata di meno, chi l'ha sfruttata di più. Però sono momenti del calcio. In questo momento ci sono più o meno quegli 11 che stanno giocando di più, ma non è detto che fra qualche giornata magari altri che hanno avuto meno scena fino a questo momento ne possano avere di più. Ma questo dipende molto da loro. I giocatori sono qui, sono tutti stati scelti dalla società. Da me perché eri ritenuti funzionali a questo progetto. Però poi molto dipende da loro. La partita sarà diretta da Pairetto della sezione di Nichelino. Invece Novara, Virtus Lanciano, sempre domani alle ore 15. Sarà diretta da Illuzzi di Molfetta. Virtus Lanciano priva dello squalificato di Cecco. Ancora dell'infortunato Federico Amenta. C'è la possibilità che giochi Vastola in mediana al posto di Domenico Di Cecco. Vastola favorito su Crecco che è stato impegnato con la B Italia. Vediamo come presenta la difficile partita di domani del Piola il tecnico Roberto D'Aversa. È chiaro che aver fatto tre punti fa crescere l'autostima, fa vedere almeno che tutti i sacrifici fatti durante la settimana, sacrifici fra virgolette, vengono ripagati. Quindi un'ulteriore spinta. Da parte di qualche giocatore magari ci voglia essere la voglia di dimostrare che magari avendo giocato meno, che magari spesso e volentieri l'allenatore avesse commesso degli errori nelle scelte. Per quanto riguarda me non c'è nessuna rivalza nei confronti dei Baroni. C'è solo da pensare a una squadra innovata, una squadra forte, che credo che in estate dopo il Cagliari e il Bari sia quella che si sia mossa di più, prendendo giocatori di categoria forti, perché mi viene in mente il mercato, hanno preso giocatori come Trost, come Poli, come Casarini, come Viola, Faraoni e possiamo ancora andare avanti. Quindi c'è da pensare che si va a affrontare una squadra forte, con un allenatore secondo me bravo, che dà equilibrio alla squadra, soffre un poco, è difficile fargli i gol e poi, ripeto, se nella voglia e nella volontà di qualche giocatore c'è lo spirito di rivalza, credo che come dici te sia una cosa naturale e mi auguro che questa possa portare dei vantaggi a favore nostra. Però bisogna sempre affrontare la partita in maniera serena e lucida, perché non c'è da giocare contro Baroni, ma c'è da giocare assolutamente contro Novaro. E' chiaro che considerando di andare a Novaro e magari di tornare con un risultato, con una squadra appunto forte, può magari darci quello slancio, può magari farci saltare fuori da quella zona pericolosa, perlomeno avvicinarci un po' di più a quelle squadre che sono sopra noi, che poi ti permette anche di affrontare la partita, non dico in maniera serena e tranquilla, perché assolutamente non ce lo possiamo mai permettere, però sicuramente con uno stato d'animo diverso, non con la necessarietà di fare la vittoria a tutti i costi. Sarà un Novara sostanzialmente al completo quello che affronterà domani la Virtus Lanciano in panchina. C'è il grande ex Marco Baroni, ma nella lista dei 23 convocati dal tecnico del Novara ci sono anche altri due ex, ovviamente parliamo di giocatori, ovvero il difensore Magnus Tröst e il centrocampista Federico Casarini, che parla così della sua ex squadra e della sua esperienza in terra frentana. Il Lanciano, quella esperienza è stata positiva, positiva perché venivo da un anno e mezzo che non avevo continuità e mi serviva una piazza che desse più luce e potesse esprimere ancora comunque il mio valore. È una squadra tosta, è una squadra che da anni ha un gruppo solido alle spalle e porta avanti questo gruppo con forza, perché comunque è una delle loro caratteristiche. Dobbiamo stare molto attenti semplicemente perché è una squadra che non molla mai, è una squadra che conosco ogni singolo giocatore, è una squadra tosta, è una squadra che ci darà filo da torcere, ma siamo preparati, siamo preparati perché abbiamo in fiducia, abbiamo i mezzi per portare a casa i tre punti perché siamo in casa e perché vogliamo comunque continuare una striscia positiva di risultati. È peccato per i mancati poi dai play-off perché è stata una stagione importante e comunque con una squadra che tutti pensavano solo alla salvezza. Ci sono arrivati a due punti dai play-off e peccato solo per quello, però è stata una stagione positiva. Una cosa che assomiglia è il gruppo, anche qui è un gruppo solido, un gruppo sano, un gruppo che ha voglia di far bene e di portare avanti dei principi, che ti accoglie nel migliore dei modi, ti fa sentire comunque subito parte di un progetto e questo è stato, parlo personalmente, è stato molto importante. Basta un attimo per trovarsi su, basta un attimo per trovarsi giù. La Serie B purtroppo è questa, quindi dobbiamo continuare come stiamo facendo, a dar continuità ai risultati, quella è l'unica soluzione. Invece la giornata di Lega Pro si apre insolitamente questa sera con l'anticipo tra Robur Siena e L'Aquila. La gara si giocherà allo stadio Artemio Franchi di Siena a partire dalle 20.30 con il tecnico Carlo Perrone che dovrebbe riproporre il 4-4-2 con Triarico nella linea dei centrocampisti. Mancherà lo squalificato Manuel Mancini, ci sarà San Domenico sulla corsia di destra, Triarico dalla parte opposta e davanti la coppia centrale composta da Ceccarelli e dal giocatore tre più in forma, ovvero Raffaele Perna, autore di una doppietta la scorsa domenica contro il Prato nel Siena. Debutterà come allenatore il tecnico Guido Carboni che ha preso il posto del esonerato Gianluca Azzori. Anche il Teramo prepara la partita che si giocherà però domenica al Porta Elisa di Lucca contro la Lucchese, Lucchese nella quale è squalificato il tecnico Giovanni Lopez per due giornate. Teramo che invece riuscirà a recuperare il centrocampista Amadio, uscito malconcio dalla gara proprio giocata e vinta contro il Siena. In difesa ha scontato la squalifica per rotta e ci sarà pienamente ristabilito anche il capitano Speranza che dopo la convocazione di domenica scorsa potrebbe scendere in campo dal primo minuto. In Serie D invece oggi ha parlato il neopresidente del Giulianova Vincenzo Serraiocco che ha parlato del nuovo corso, una nuova sponsorizzazione e poi i quattro acquisti appena firmati. Tra questi il giocatore più importante il trequartista Saverio Pellecchia e poi dice il presidente Serraiocco siamo vicini a Massimo Ganci, l'ex attaccante del Pescara, ora in forza la maceratese. Ascoltiamolo. Vincenzo Serraiocco, oggi venerdì 4 dicembre possiamo dire che per Giulianova e per il Giulianova inizia un'altra storia? Sì sì, l'avevo già promesso ai tifosi un mesetto fa quando eravamo in grossa difficoltà, ho detto datemi fiducia, siamo insieme, uniti insieme nel Fadini anche domenica, ne voglio tanti e voglio tanti per supportare questo Giulianova, inizia un nuovo cammino e non finiremo qua. Siamo stati i primi che hanno preso 4 giocatori importanti di peso, di categorie anche oltre, siamo in trattativa con altri giocatori, con il direttore generale che ho sentito quotidianamente anche quando ero fuori, pensiamo di dare un buon inizio, se non un inizio importante, a questa città che ritorni alle categorie che merita. Oggi soffriamo, fino a maggio soffriremo, soffriremo nel senso che dobbiamo vincere per salvarci, prossimo anno invece vinceremo per fare qualcosa di più importante. Senta, ma è vero che per Ganci la strada poi non è così in salita come si pensava fino a qualche giorno fa? Assolutamente no, Massimo è un giocatore che a me piace tanto dal punto di vista sportivo, nonché anche personale, una persona che sento quotidianamente al telefono, ci tiene a ritornare in Abruzzo, ci tiene a ritornare a Giulianova e spero che possa portare i colori del Giulianova. Ganci, Giglio, chi è più vicino oppure tutti e due? Ganci, Giglio, ce ne sono ancora altri, sono tutti vicinissimi, poi deciderà il Giulianova. C'è anche la presentazione di un nuovo sponsor, l'Anno Zero Service, che vi darà una mano in questo progetto nuovo. L'Anno Zero Service è una realtà imprenditoriale di livello nazionale, il cui mi stringe un rapporto di amicizia, sono contento che hanno scelto di essere vicino al Giulianova, non me lo aspettavo, quindi li ringrazio doppiamente per il fatto che si avvicina a una città così piccola, per una società così grande. Il TG6 torna con la seconda edizione, alle ore 19, vi lascio ora al TG6 L'Aquila. È tutto per questa prima edizione, grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.